ciao a tutti ragazzi ci siamo finalmente reaction blind reaction lakers 76ers la partita che avete richiesto tramite il sondaggio di ieri come al solito non so il risultato non so il box score non so nulla di nulla speriamo come al solito che sia una bellissima partita finora c'è andata decisamente bene e speriamo di continuare questo trend fortunato mentre schroeder sbaglia l'entrata a canestro è la versione extended degli highlights mentre simmons mette i primi due è la versione extended degli highlights ragazzi quindi durerà circa un quarto d'ora ribadisco speriamo che non sia una partitaccia e grande gasol senza saltare ovviamente come al solito in fila la tripla allora è di fatto migliore dell'est contro migliore dell'ovest anche se la difesa qui dei lakers è parecchio rivedibile e gasol a ecco no partire con un 2 su 2 da 3 di gasol sarebbe stato veramente troppo ben simmons partito con le marce altissime ragazzi mentre finalmente sono rientrati tutti c'è serris vedo c'è set curry c'è danny green che da ex in fila la tripla come detto c'è ci sono i lakers primi a ovest ci sono i 76ers primi a est quindi potrebbe essere una bellissima preview di finals nba qua c'è la stoppata irregolare di mbid comunque fa strano vedere i lakers con la maglia blu sembrano i fila delfia 76ers mentre il nostro giovinciello 36 n va a schiacciare sul backdoor gran palla di gasol allora gasol molto coinvolto in questo inizio è così per dire è altra palla incredibile di gasol mamma mia questo al minimo salariale per due anni ma come ma di che stiamo parlando allora si cerca in tutti i modi mbid in post però c'è una buona difesa in centro maton ha lasciato gasol fermo piantato sulle gambe non che sia difficile altro assist di gasol altra giocata di lebron grandissima qualità in questo inizio di partita ragazzi grandissima qualità il risultato si legge casomai sposto un po più in alto la mia faccina me ne sono accorto adesso meglio tardi che mai lebron sbaglia la tripla simmons parte ai 2000 all'ora bella difesa di gasol che si mette sulla linea di passaggio e poi palleggio arresto e tiro della vostra guardia di 2 metri e 13 per 130 kg tanta roba attacco vorticoso dei lakers che fanno una serie di movimenti per smarcare antony davis in post altro rimbalzo offensivo danny green sovrasta schroeder mentre c'è anche shake milton in campo vediamo qui il blocco di danny green ma arrell rimane con mbid vediamo in post come se lo mangia no invece era doppio di e poi cork maz da tre filadelfia sul più 13 addirittura quindi stopatona di mbid su lebron e poi tripla in transizione di danny green ma voi pensate adesso lebron quante bestemmie gli possa aver detto danny green che l'anno scorso nei playoff non ne metteva una cazzo quasi più 20 filadelfia minchia inizio pazzesco dei 76ers mentre lebron si lavora tobias no taibul in post basso ragazzi oggi tra l'altro anzi no domani esce un video sui 46 di lebron un vero e proprio clinic grande lavoro di kuzma kuzma ragazzi sta crescendo intanto i lakers tornano a meno 6 kuzma sta crescendo nella partita contro i kevs ha fatto ottime cose anche difensive e qua insomma sta migliorando di giorno in giorno sta migliorando di giorno in giorno occhio a kyle kuzma e alla sua possibile trade a breve pick and roll corkmaz è comunque dai corkmaz sta diventando una sorta di belinelli coi movimenti che ha fatto in questa azione potrebbe essere molto utile a philadelphia in questa stagione guardate come tira da tre si vede lontano un miglio insomma quando lebron si guarda la mano mentre palleggia è matematico che voglia tirare intanto già 17 punti sui 34 totali dei dei lakers cazzo fa un quarantello anche stasera altra tripla di danny green mamma mia comunque danny green ragazzi è sempre nel posto giusto al momento giusto sempre nel posto giusto al momento giusto orton tucker il re di vivo i maligni dicono che i lakers non lo stiano facendo giocare per fargli per non fargli acquisire troppo valore io francamente non lo so isolamento per ben simmons attacco bruttino questo di philadelphia anche se poi tobias harris sfrutta il blocco di mbid difesa lakers un po pigra probabilmente e ancora cosa sono 19 punti di lebroni in un quarto e mezzo porca troia ma vuoi vedere mentre qua set curry si sente suo fratello bella hesitation bella finta di anthony davis i due migliori lunghi della lega al momento jokic permettendo senza ombra di dubbio sfida tra l'altro tra mvp perché mbid finora è l mvp stagionale lebron sta salendo notevolmente di colpi e francamente sarebbe bello vederlo mvp a 36 anni e anthony davis uguale ma dov'è che l'ho trovato un sette piedi che fa questi movimenti guardate che roba tiro alla novitski qua sbaglia ancora gasol molto attivo veramente gasol finora molto molto attivo in questa partita ben simmons a spalle a canestro di destro che poi non ho ancora capito se sia mancino o destro ma probabilmente non l'ha ancora capito nemmeno lui mentre filadelfia continua a stare avanti nel punteggio anche se dal più 18 si è tornati al più 4 si vede che i lakers hanno aggiustato due tre viti difensive sono partiti molto molli almeno da quello che abbiamo visto all'inizio e dopo il primo quarto credo che philadelphia abbia fatto pochissimi punti dopo sarebbe da vedere il box score completo altra palla in post per lebron posizione profondina profondina canestro e fallo direi che siamo a 22 per lebron a fine primo tempo sti cazzi il buon glenn doc rivers 55 51 inizio terzo periodo ancora lakers in avanti piccarol schroeder lebron lebron vuole palla contro danny green ma schroeder non se lo caga di striscio prende il tempo ben simmons coach vongola diciamo che l'attacco di filadelfia boh molto statico perde parecchio tempo all'inizio per sistemare le cose poi va spesso a concludersi con un piccarol centrale tra tobias herris e joel mbid vediamo se si vede qualcosa di diverso qua comunque quando la palla c'è la simmons sono sempre attacchi veloci sempre tiri nei primi secondi dell'azione quando invece c'è l'attacco a metà campo la palla va spesso a finire nelle mani di mbid o tobias herris vedete in questo caso palla condotta da simmons al primo scarico di simmons si va per il tiro qua invece la palla la conduce tobias herris e si cerca il gioco a 2 con mbid quindi azione più lenta azione a metà campo è una chiave di lettura che insomma abbiamo si nota chiaramente da questi highlights poi guardisco vedere gli highlights non è vedere la partita completa però se più indizi fanno una prova potremmo chiaramente dire che quando la palla c'è la simmons la porta simmons philadelphia tenta il tiro nei primi secondi quando la portano gli altri si tenta l'attacco a metà campo con mbid come perno altra tripla di gasole sono curioso di vedere le statistiche di gasole che sembra stia facendo una gran bella partita per ora e niente deve deve tirare schroeder tutti gli danno la palla tutti continuano a liberarsi del pallone e comunque schroeder è tanto utile a questi lakers tanto 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 utile come dice lebron gli permette veramente di giocare tanto tempo lontano dal pallone la presenza di schroeder gasole fa tanto in questi lakers permette a lebron di riposarsi un pochettino anche quando in campo gioco a 2 qua beh tripla si attacco meno fluido magari però si cerca sempre il mismatch e i lakers hanno un sacco di giocatori diversi perché possono generare un mismatch quindi insomma ci può stare come tipo di attacco stoppata irregolare si entra nel quarto periodo tra poco philadelphia è ancora avanti però abbiamo per l'ennesima volta una partita equilibrata ragazzi non so questo format sta prendendo delle pieghe abbastanza fortunate mbid da 3 più 9 adesso che l'ho detto ovviamente philadelphia andrà sul più 20 partita finita però più 9 philadelphia palla rubata quindi tra l'altro si scontrano due delle migliori difese dell'nba oltre che degli ottimi attacchi quindi diciamo che molto molto al momento è molto probabile che questa possa essere a tutti gli effetti una possibile preview delle finals nba poi dopo il martin luther king day come ho detto più volte qua maxi va per i due punti martin luther king day è stato probabilmente il punto di inizio reale di questa stagione perché da quella data si vedono delle partite più tese più combattute più equilibrate speriamo speriamo bene che il livello appunto generale delle partite si alzi che dire qua lebron va ancora a canestro ma quanti punti ha fatto lebron? c'è una qualche grafica che mostri il numero di punti di lebron sarà a 30 prima dell'inizio del quarto periodo e tobias harris continua la sua efficientissima stagione nba altra grande difesa inizio quarto periodo simmons conduce il contropiede e come abbiamo detto prima attacco veloce quando simmons porta palla cioè decisioni veloci quindi attacchi e tiri nei primi secondi quando c'è simmons palla in mano attacco a metà campo invece si va da Embiid ormai lo diamo per assodato simmons sta sempre nella posizione lì sulla linea di fondo la famosa dunk come si chiama dunk position dunker position più 11 Philadelphia che è in vantaggio dal primo minuto di questa partita movimento movimento incredibile il canestro incredibile di Embiid ma che razza di sensibilità ci vuole per fare un canestro del genere mentre Philadelphia prova a scappar via quindi vedete simmons porta palla attacco veloce simmons porta palla attacco veloce più 14 Philadelphia ragazzi questi 76ers sono fanno realmente paura mentre Caruso in zingarata più 12 Philadelphia 5 minuti dalla fine palla in mano Tobias Harris per Embiid ancora gioco in post per Harris che va per altri due punti più 14 Philadelphia buona difesa in questo caso l'Akers attacco così e così di simmons vediamo se riescono ad accorciare le distanze credo proprio di sì floater di Schroeder con Lebroni in panchina i Lakers provano a riavvicinarsi si è fermato un pochettino l'attacco di Philadelphia però sono sempre più 12 insomma quindi il margine è ampio a 4 minuti dalla fine anche se qua Schroeder continua a imperversare canestro e fallo quindi cos'è più 9 Philadelphia più 9 Philadelphia a 4 minuti dal termine difesa forte di Schroeder su Seth Curry eh se Philadelphia segna qui non dico che possa essere finita ma ma potremmo essere messi bene gran canestro di Tobias Harris con Anthony Davis davanti i Lakers segnano però ancora più 9 Philadelphia a 3 minuti dalla fine bella partita dai magari meno tesa delle altre però a livello di risultato qua Embiid cosa ha fatto madonna che giocatore più 12 Philadelphia a 3 minuti dalla fine 8 su 16 del campo Embiid 28 punti qua Caruso fa tornare a meno 10 i suoi ancora Caruso poi Anthony Davis salva il pallone e tripla di Caruso incredibile eh meno 7 a 2 minuti mamma mia eh sbaglia purtroppo Anthony Davis ma ma tripla di Schroeder uh meno quattro meno quattro palla Lakers ragazzi è una partita che sembrava chiusa e vuoi non mettere la tripla dal logo cioè attacco non è successo niente le bronze carica KCP meno 1 non possono essersi mangiati la partita così ragazzi non possono essersi mangiati la partita così e va sul più 1 Philadelphia si mangia una partita dal più 12 a 3 minuti dalla fine non ci voglio credere non ci voglio credere mamma mia no più 1 fila non ha time out Los Angeles no beh se fa canestro così ragazzi mamma mia che partita incredibile che partita incredibile Philadelphia si stava mangiando una partita già vinta più 12 a 3 minuti dalla fine le bronze 34 6 e 6 con 12 su 22 20 trentoni davis 16 schroeder che è stato il vero uomo partita secondo me schroeder gasol ha giocato poco da un certo punto in poi 10 chi 10 caruso e andiamo a vedere un po' più avanti le cifre dei 76ers 28 mbid 17 10 11 tripla doppia simmons 14 green 24 harris ragazzi che partita cioè io spero veramente che siano le finals di quest'anno abbiamo visto una grandissima partita a filadelfia in controllo e ha è stata penso avanti da quello che ho visto dal primo a 10 secondi dalla fine e poi tobias harris la risolta a 2 secondi dalla sirena grandissima partita veramente un culo enorme nel fare la reaction e che dire ragazzi speriamo veramente che possa essere la che possono essere le finali di quest'anno perché abbiamo visto due bellissime squadre per quanto riguarda a filadelfia i concetti li abbiamo più o meno detti in live per quanto riguarda i lakers hanno alzato le marce nel quarto periodo a tre minuti dalla fine hanno ripreso una partita che era morta hanno rischiato di vincerla però non possono continuare a giocare col fuoco secondo me devono vincere qualche partita proprio in maniera netta come a cliveland e dare una spinta definitiva alla loro stagione in regular season poi ragazzi ai playoff si vedrà che dire ennesima botta di culo grandissima reaction grazie a tutti voi ci vediamo nei prossimi giorni con ulteriori reaction e ragazzi è stato è stata proprio una bella partita adesso posso andare a vedermi anche tutti gli altri highlights un saluto il franz un saluto